Ed eccoci qui a Daytona Beach, in Florida, per la corsa dell'estate, la Firecracker 400. Oggi il favorito è il debutante Cole Triple, con la Chevrolet Superflow numero 46. È il novellino più in gamba della storia della NASCAR, con un record ineguagliabile di 5 vittorie nelle ultime 6 gare. Smettila di giocare a nascondino nello specchietto di Raudi, credevo che ormai ne aveste abbastanza voi due. Non sto giocando a nascondino! Allora che stai combinando? Hai il paraurti posteriore allentato, gli sto solo dando una mano a staccarlo del tutto. Continua così e finirai per fare a pezzi il tuo radiatore, allora potrai dire addia alla corsa. Se ti si allenta ancora un po', Raudi, ti costringeranno a uscire. Dai, lascialo passare! E' l'accenno di passare! Lo supero all'esterno! Ehi, perché hai quella faccia, Harry? Ti hai fatto trattenere il fiato. Bravo, con ottimo recupero! Cole Trickle è adesso attaccato all'auto numero 51 di Raudi. Ecco che ricomincia la sfida! Vai, Cole! C'è un incidente all'uscita della 4. C'è un incidente all'interno di Raudi. C'è un incidente all'interno di Raudi. C'è un incidente all'interno di Raudi.